Eccoci signori bentornati in questo nuovo video stasera A parte che ho mangiato una carbonara ragazzi e un filetto al beve verde che Boh erano la fine del mondo, mia madre è un toro da monte in cucina quindi sono bello 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 soddisfatto Ma tolto questo andiamo a vedere la top 10 di Cipre Toti C'è qualche new entry, c'è qualcuno che è uscito ma bene o male tanti nomi sono confermati Ed è uscito anche Stones ragazzi non sto a farvi vedere la carta o altre cose perché se non viene troppo lungo il video Vi dico però che Stones è una carta secondo me molto molto figa perché è un giocatore con stasi difensivi assurde Stasi di fisico assurde, molto alto, 1,88m, il worker secondo me non è un problema però ha 72 di accelerazione che è un po' pochino Per tutti i feedback vi lascio il link del gruppo Telegram come sempre che vi ricordo aperto a tutti siamo quasi 6.000 Che molti ragazzi lo hanno già sbloccato e molti lo stanno provando e ne stanno parlando nel gruppo Quindi vi lascio il link sotto domani quando esce il video se volete entrare siete come sempre benvenuti Andiamo a vedere però la top 10 dei DC Partiamo da Virgil ragazzi, Virgil van Dijk che per me rimane comunque il top 10 Come ho sistemato questa top 10? Sono 10 innanzitutto 3, 6, 9, 10, dovrebbero essere 10 Come vi ho sistemato i DC? Vi ho sistemato un po' come per i mediani in ordine che vi dicevo i mediani completi, i mediani difensivi eccetera I difensori alla Virgil quindi fisici molto possenti magari un po' più lenti E i difensori invece un po' più dinamici un po' più all'amilità o l'anno scorso Ricordatevi bene che almeno se chiedete a me non c'è mai o Virgil chi va bene messo di fianco Per me i difensori vanno presi singolarmente Non è come la mediana che vi dicevo in mediana voglio uno tecnico e uno che faccia bene la fase difensiva I DC vanno presi singolarmente Quindi posso mettere Virgil e posso mettere ad esempio Blanca tranquillamente Se sono uno che ama di più i difensori sui filtranti Che coprono i filtranti andrò a prendere Walker Andrò a prendere Walker insieme a Gomez Che magari sono meno forti nell'1v1 di Virgil Ma coprono bene i filtranti Ed è proprio qua il punto ragazzi Virgil sempre giocatore incredibile Intanto rutti clamorosi Giocatore sempre incredibile ragazzi Ovviamente ovviamente da usare con ombra 72 di accelerazione anche lui come Stone 79 di sprint speed Ovvio se vi fanno i filtranti quelli malati da una parte all'altra del campo Virgil un po' patice Però per il resto 1v1 nella marcatura Nella CPU ragazzi non ce n'è Come Virgil non ce ne sono Nessuno Quindi sempre consigliato ovviamente Dovete essere bravi a difendere i filtranti scappando verso la vostra porta Qual è forse Poi andiamo a vedere ancora gli altri Diciamo alla Virgil che sono fino a Gimenez Nella mia classifica Chi è forse ragazzi il punto d'incontro Nel difensore migliore Che vi fa sia un po' la roba alla Virgil Perché è un metro 91 ha delle gambe babeliche Un po' come quelle dei coccotrilli Sia magari un lavoro che fa un walker Perché ha una ferrarina sotto il culo Rafael Varane Sia nella carta base Che tuttora è top Io vi ho messo questa per i ricchi Varane Perché Varane è tipo Virgil Anche se non ha la CPU di Virgil Però comunque difende benissimo gli 1v1 Ha la pecca dell'equilibrio Però vi dico la verità Io in 700 partite non l'ho mai sentita più di tanto Ma a differenza di Virgil Ha una cazzo di Ferrari raga Io anche quando gioco contro i pro Che faccio magari quei filtranti Che magari vuole non vedete Proprio quelli malati Da metà campo con Bruno Ad attraversare tutto il campo Per la punta che taglia dentro Varane Vuoi o non vuoi Ci arriva sempre Si mette il casco Accelera Brum 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 E non sai come si teletrasporta Da un momento all'altro Nella zona di campo Poi con l'L2 È una scheggia Perché si muove alla velocità della luce È veloce Fisicamente è una roccia Quindi carta assolutamente top Io vi dico già che post Toti Che continuano Non si sa quando usciranno i Toti In teoria la promo più bella dell'anno Quella che tutti attendono Un po' il segnalino di metà anno Nessuno dice niente Vabbè come sempre GGA Ho il base Ripeto Trovato di un pacco Quattro mesi fa Da 700 partite Appena potrò post Toti La difesa sarà Questo Varane Con Ramos Toti Se uscirà Come coppia Perché veramente raga Varane è un giocatore Pazzesco Che fa tutto Quindi è il giocatore Che più vi consiglio Anche il base Ripeto E per entrambi ragazzi Allora per questo Ci può stare ancora Però se volete stare tranquilli Per la velocità ombra Per il base Io l'ho usato un po' con ancora L'ho usato un po' adesso con ombra Vi posso dire come dico sempre I stili intesa sono uguali Non cambia un cazzo Io ho messo ombra Ultimamente Corre come quando aveva ancora Idem E sposta la gente Come quando aveva ancora Quando lo sto usando con ombra Quindi o ancora ombra Vedete voi raga Ma non cambia assolutamente Nulla Difensora la Virgil Anche qua abbiamo Blanca Vi ho messo un'icona Perché vi ho messo due icone Perché era giusto secondo me Metterle Ci sono altri dici icona validi Come Carlos Alberto Come Desagli Questi due sono quelli Che mi vengono in mente Da icone Cannavaro Nesta E gli altri Nora Gamaldini Baby Spostato ci sta Però vi ho messo Blanca e Ferria Perché Blanca è un Virgil Più veloce Che ogni anno è un mostro E lo è anche quest'anno Va benissimo il mid Ha un prezzo comunque umano Se vi serve un icon Ecco Questo è un giocatore Che se vi siete trovati bene con Virgil Se di Virgil avete patito leggermente I filtranti Questo fa il caso vostro Perché più veloce di Virgil Un metro e novantadue La gamba ce l'allunga come Virgil E difensivamente Veramente un animale Quindi stra Stra Consigliato Se invece volete poi un giocatore più dinamico Dopo andiamo a parlarne Andiamo a parlare di Ferrian Qua sono sempre un po' i giocatori Alla Virgil Coulibaly Ve lo metto Perché il Napoli comunque credo Che potrebbe continuare ad andare avanti Una gran bella carta Costava 300k ai tempi Mi ricordo Adesso 512 Anche qua Un po' la copia di Virgil Ragazzi Un po' meno buggato Perché Virgil è più buggato Più grosso Più largo Un po' meno lungo Però quando lo trovo contro Insorpassabile Per la serie A Per me non può mancare Anche lui con ombra Ragazzi Difensore veramente Top 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 Roccioso Che ha come vedete 96 di forza 93 di attura difensiva La velocità Lo sprint speed Che si avvicina all'80 L'accelerazione decente Anche qua ragazzi Non abbiamo un Varane Non abbiamo un Walker Però questo nell'1v1 Non si zompa Cioè Arriva Gli arrivate davanti Tira fuori l'anerchia Ve l'appoggia in spalla Vi da due coltellate E vi rimanda Al mittente Quindi giocatore che sono in serie A Non può mancare Ovviamente Stile intesa Ombra L'ultimo giocatore Che io ho usato Per ben due mesi L'ho usato anche Prince L'abbiamo usato Nei tornei E forse lo userò Di nuovo Può darsi Nei tornei E Gimenez Che è un giocatore Che mi ha sorpreso Perché è un 1,85 Ma è enorme In game È veramente grosso Raga È spesso grosso Forte fisicamente Aggressivo Sono quei dc Che piacciono a me Alla David Ruiz Dell'anno scorso Forte fisicamente Aggressivo Non veloce Come un Walker Perché anche lui I filtranti Li difende Ma non come un Walker Non come un Gomez Ma che nell'1v1 Mi dà sicurezza Perché difensivamente È veramente forte Quindi se avete Una liga Varane E Gimenez Secondo me È la coppia Del secolo Non vi ho messo Diego Carlos Perché io ho provato Gimenez E preferisco lui Ovviamente con ombra Pure il buon Gimenez Gimenez che vi permette Di usare Oblak Tra l'altro Che è l'unico portiere Che quest'anno Vi dico Fa la differenza Gli altri non li ho provati tutti Ma mi hanno fatto tutti Cagare come sempre Oblak Quest'anno Mi ha salvato il culo Parecchie volte Avevo il Champions Adesso sto provando La nuova squadra Come avete visto Nel RKVL Quindi ho dovuto Cambiare qualcosa Arriviamo adesso Ai difensori più dinamici Raga Anche se questo È un ibrido Un po' Un po' Alla Varane Ecco Ferdinand è molto Alla Varane Giocatore Che su FIA 18 Era clamoroso Lo era anche Sugli altri FIFA Ma più su FIFA 18 L'anno scorso Non serviva avere Ferdinand Perché bastava L'englet base Ferdinand Prime Ragazzi Così come anche il baby Continua ad essere valido È un giocatore Assurdo Che a me piace tantissimo Velocissimo difensivamente Guardate che stats È molto grosso Perché è un metro E 89 Per 87 chili E ha ottime stats fisiche Quindi Ferdinand Che è un giocatore Che vorrei avere in futuro Che ho sempre utilizzato Con Ancora Anche qua Come dico sempre Quest'anno raga I filtranti sono più potenti Se volete stare tranquilli A livello mentale Ma fidatevi Corre sia con Ancora Che con Ombra Mettete Ombra Però io penso Che probabilmente Lo prenderò prima o poi Magari per provarlo Magari perché mi servirà un'icona E andrò di Ancora Carta eccezionale Se mi dite Ecco però Ho crediti Prendo Varane O prendo Ferdinand Forse raga Fra i due Vi vado a prendere Ancora poi Varane Perché comunque Costa un peletto in meno E come vedete Le statistiche Più o meno siamo lì Vi dico la verità Secondo me Ferdinand È più forte Soprattutto a livello difensivo E Soprattutto perché È un'icona Che comunque Ha sempre la sua importanza Però fra i due Anche magari Sì Ferdinand Vi permette di linkare chiunque Però Varane con Mendiro Sapete molto easy Fra i due forse Ha più senso prendere Questo Varane qua Questo costa 1,640 Andasse a 1,3 1,4 Uscisse l'SBC Come gli anni scorsi Che sarebbe pure ora Sarebbe il top Quindi consigliato Se volete una sorta di ibrido Adesso passiamo ai giocatori Per i filtranti I giocatori Più piccolini Più mobili Ma Un pochino inferiore Nell'1v1 Secondo me Il primo è Alaba Che è una carta sicuramente top Però come vedete 1,80 Guardate quanti centimetri Già perdiamo Questo anche in mediana Ve l'avevo detto Quando era uscito Secondo me Fa il suo la grande Costa 4,72 Vi dico la verità Se devo andare a prendere Uno di Bund Se io vorrei provarlo Andrei su Klosterman Più che se ho Alaba Se Walker Continuarà a non convincermi Del tutto Proverò Klosterman Però questo Alaba È sicuramente interessante Qua è un po' Un giocatore Non proprio in abilità Ancora di più Nel senso Piccolino Gambette più corte Però questo ha una dinamicità unica Recuperate palla Vi girate Vi rigirate Così non la perdete Potete scaricare Con l'L2 si muove La velocità della luce Difensivamente comunque top Però non ha quell'imponenza Vedete Non ha quell'aggressività Non ha quella forza fisica Che hanno giocatori come Virgil Come Blanc Come Coulibaly Come lo stesso Varane Quindi consigliato Ma Se patite tanto i filtranti Se vi piacciono più Questi stili di giocatori Passiamo a Klosterman Lui ovviamente con ombra Ragazzi Passiamo a Klosterman Che anche qua Forse è un ibrido Anche se mi hanno detto Che la velocità Non è così effettiva Perché è veramente enorme in game Guardate qua 1,87 x 88 kg Un cinghiale praticamente Difensivamente top Lui non ha tantissima aggressività E non tantissima forza Però compenso appunto Per quanto è enorme È comunque veloce raga Perché è comunque veloce Molti pro lo utilizzano Si trovano bene Però lui Ecco forse è ibrido lui Perché difensivamente Nel 1v1 comunque è anche top Quindi rientra un po' più Negli ibridi In Bundes Se avete crediti Lui per me Non può mai mancare Da utilizzare con ancora Ripeto Ve lo testerò Nel caso Walker Non mi convinca Kyle Walker Proprio lui Lo sto provando Prezzo così alto Perché è usato tantissimo Nel competitive Proprio perché i filtranti Ovviamente ve lo dico sempre Raga no Nel competitive Viene tutto portato Diciamo al limite Anche i filtranti C'è gente che fa dei filtranti Assurdi Non quelli classici Proprio Da un lato all'altro Per Cristiano Per il fenomeno E quindi un giocatore Come Walker Torna comodo Cosa ho notato però Io in questi due giorni Che l'ho provato Anche ieri in un torneo È fortissimo Nei filtranti Vola Con le L2 Vola Perché si muove La velocità della luce Ma nell'1v1 Ragazzi Non mi venite a dire Walker è il difensore Più forte del gioco Perché ragazzi Tu prendi Varane Prendi Virgil Prendi un Blanc Prendi anche un Gimenez Prendi un Klosterman Se lo mangiano vivo Ragazzi Ieri mi sono messo A coprire un doppio passo È stato attraversato Cioè Se tu fai un doppio passo Su Virgil Su Varane Il giocatore Finisce al terzo anello Walker è eccezionale Ma nell'1v1 Secondo me Non è il massimo Quindi Top player Dovrebbe costare 500k Non 729.000 Se patite i filtranti Non potete non averlo È diverso appunto Da Virgil Quindi quando mi dite Prendo Walker O prendo Virgil Prendo Walker O prendo Gomez Questa domanda Già ci sta di più Però Hai giocatori come Virgil Come Blanc Come il Coulibaly Non paragonatelo Ragazzi Perché questo È il giocatore Per i filtranti Ma nell'1v1 Secondo me Perde tanto Poi come vedete È grosso fisicamente Però 79 di forza Soprattutto 78 di aggressività Non è il massimo Diciamo che Walker Un po' come Militao L'anno scorso Ma più ancora di Militao È il giocatore degli anticipi Perché si muove talmente veloce Che se siete bravi a anticipare Arrivate sempre prima Io l'ho provato Con Ancora L'ho provato Con Sentinella Anche qua Cambia un cazzo Mi pare che corro uguale Mi pare che difenda uguale Qualcuno lo usa addirittura Con Ombra Vedete voi ragazzi O Ancora Sentinella Ombra Ma come sapete Lascia il tempo che trova L'ultimo è Gomez Che si può paragonare A Walker Ma È più lento E in game E in game si sente Io l'ho provato L'ho usato per tanto Ma nell'1v1 È più forte Fisicamente È più massiccio È più grosso È più aggressivo È nell'1v1 È più forte Quindi Se vi piacciono Il giocatore comunque Forte in 1v1 Andrei su Gomez Se arrivate magari Da un Virgil Che dite Vabbè Virgil È forte Però io patisco i filtranti È ora di cambiare Sono in Premier Voglio un giocatore più veloce Prendo Gomez Oppure voi siete Gente di Dite Boh Ho Virgil È veramente un po' lento ormai Anche se secondo me Può andare benissimo ancora Voglio prendere Insieme al mio Varane Insieme al mio Coulibaly Insieme al mio Gimenez Insieme al mio Closterman Insieme al mio Maldini Baby Che ho trovato Insieme al mio Desaglini Il mio caro Salberto Un giocatore Che sia un ibrido Non sia Walker Che magari perde un po' nell'1v1 Che non sia Virgil Che è un po' lento Gomez Gomez è la scelta Forte fisicamente Grosso E bravo nell'1v1 Non è Virgil Nell'1v1 Non è Varane Non è Blanc Eccetera Ma comunque Forte Stile intesa Ombra Per il buon Gomez Quindi questa è la scelta Che volete fare Fra Gomez E il buon Kyle Walker Finisce qua la top 10 Ragazzi Io spero di avervi chiarito Un po' l'idea Spero Soprattutto Che Usciranno presso i Toti Questo spero Ma oltre a questo Spero Che d'ora in poi Abbiate le idee più chiare Perché è importante Ragazzi Arrivati soprattutto a gennaio Cercare di schiarire I ribelli le idee In modo che siete più autonomi Perché io ve lo dico sempre Spesso viene gente in live Io non ho problemi Dico le cose come sono A tutti Gente in live Ti viene Ti chiede le cose Io non devo decidere per voi Io vi posso solo Tra virgolette Tracciare un po' la via E dare la mia esperienza Ma non sono io Che devo decidere per voi Siete voi Che dovete decidere per voi stessi Perché nessuno Può scegliere meglio di voi Per voi stessi Quindi Ascoltate i feedback Ma Mai Ho questo Quello e quell'altro Chi metto Ho questo Quello e quell'altro Daniel gli piace questo Daniel gli piace l'altro Consiglia quello Principe gli piace quello A quell'altro gli piace quello A me Come piacciono i giocatori Questa è la domanda Non dovete dire Come piacciono a Daniel Ma a questo giocatore Piacerà a me Questa è la domanda da farvi Io vi lascio Vi mando in pace Vi auguro una buona giornata E ci vediamo Prossimamente Si spera Col secondo team degli Adliner Che dovrebbe uscire E poi con i Toti Arriverà la mia prediction Toti Buona serata Buona giornata Un abbraccio Bye